La situazione meteorologica sul comparto europeo vede l'avanzamento in una saccatura atlantica con aria fresca e gli associati piogge temporali e fronti che appunto da ovest avanzano verso est. Lo vediamo anche nella mappa dei fronti al suolo, prevista per domani, il fronte freddo principale preceduto da correnti sud-occidentali, umide e instabili. Il fronte freddo poi arriverà domenica sulla regione. Ecco che nel dettaglio previsioni per sabato, cielo al mattino, tempo un po' più stabile con cielo poco nuvoloso, poi in giornata variabilità e dal pomeriggio probabili temporali sparsi che potranno essere localmente anche di forte intensità. Vento da sud moderato sulla costa del pomeriggio, temperature più basse degli ultimi giorni ma farà ancora piuttosto caldo a foso appunto in giornata. Domenica, depressione sulla Val Padarre, termina cielo coperto tutta la regione, piogge diffuse, temporali diffusi, qualche temporale localmente forte con pionge che potrebbero essere anche intense su un po' tutto il territorio regionale. Vento da sud-est, anche sostenuto di pomeriggio sulla costa, in serata poi attenuazione dei fenomeni in generale più fresco. Lunedì, miglioramento, cielo in generale poco nuvoloso, non sono previste precipitazioni, le temperature salgono leggermente rispetto a domenica ma su valori decisamente più bassi rispetto agli ultimi giorni. Direi che è tutto, dallo sfrattamento dell'ARP, Arturo Pucillo vi saluta.